ciao a tutte eccomi qua in un nuovo video oggi è mente per non annoiarvi e non fare sempre i diciamo i soliti video magari tutti uniti sullo stesso genere oggi vi volevo far vedere gli occhiali che io utilizzo normalmente partiamo dal fatto che io collezionavo anche occhiali avevo diversi modelli di diversi marchi e da quando ho incominciato avere problemi di vista per quanto riguarda appunto l'ipermetropia e la presbiopia ho deciso di vendere diciamo tutti gli occhiali che non diciamo da sole che non avrei potuto utilizzare perché non ci avrei visto benissimo e quindi ho fatto una selezione vi faccio vedere quelli che ho ottenuto quelli che poi sono da vista e quelli gli unici due da sole che utilizzo ugualmente magari al mare allora incomincio proprio da quelli a questi due occhiali sono affezionatissima uno è questo non ha marchio con tutte le perle e non posso farvi vedere adesso come mi sta indosso è un occhiale che imita senz'altro dei brand come per esempio prada gucci insomma il modello con le perle è stato riproposto da diverse case questo l'ho acquistato nel centro commerciale di orio center a bergamo e l'ho acquistato due o tre anni fa sono affezionatissima me li ha regalati mio marito mi avevamo pagati intorno ai 15 20 euro però la lente è buona mi piace tantissimo è lo stesso posto dove ho acquistato questo anello a cuore questo qui è una specie non è un negozio ma è una un'esposizione dove questa ragazza ha appunto diversi diverse cose occhiali da sole accessori tipo il bracciale che vi avevo fatto vedere simil cartier che avevo preso per me per mio marito insomma ogni tanto riesco a trovare quando capito lì mi fa piacere passare prendere qualcosina l'altro occhiale da sole anche per quanto riguarda questo sono affezionatissima è un semplicissimo occhiale di zara un occhiale che mio marito mi ha acquistato a londra mi piace da morire anche perché è nei miei colori è veramente veramente bello almeno mi piace come forma e è molto bella anche la confezione al suo pannetto e niente mi piace veramente veramente tanto quindi questi sono gli unici due occhiali da sole che non montano delle lenti da vista adesso proseguono farvi vedere prima di tutto quelli per lì per metropia per la presbiopia quindi occhiali da lettura tipo per esempio quelli che indosso ora e sono degli occhiali che io utilizzo quando devo truccare perché devo vedere bene e quindi è un occhiale che tengo riguardato perché quello diciamo che mi dà la possibilità di vedere proprio le cose minuziose ve lo faccio vedere è un occhiale di tiffany che montava delle lenti da da sole e io li ho modificati a me piacciono le montature grandi questo è oro rosa e poi diciamo le lenti sono nere e l'interno è verde tiffany quindi questo è l'occhiale che tengo maggiormente per per truccare l'occhiale invece da battaglia è un occhiale vecchissimo con una gradazione anche inferiore e meno adatta però lo tengo per casa ed è tra l'altro è anche proprio perché da battaglia è anche sporco i miei occhiali sono sempre tutti sporchi in quanto non sono mai stata abituata ad utilizzarli mia figlia li utilizza da quando è piccola io li sto usando fissi da un cinque anni questi qui sono di una vecchissima collezione di dolce gabbana io amo questa fantasia è della stessa serie avevo preso quindi questi da lettura e aspettate che devo ricordarmi dove li ho ok e questi sempre di dolce gabbana dove che montano diciamo una lente per l'ipermetropia anche questa è una gradazione più bassa rispetto a quella che sto utilizzando ultimamente però devo dire che comunque ci vedo bene l'interno ha sempre la stessa fantasia degli altri che vi avevo fatto vedere entrambi nascevano come occhiali da sole e io ho richiesto la solita modifica ok quindi mettiamo via anche questi e la scatola di questi ce l'ho ancora conservata però mi si era un po rovinata era tutta maculata come l'occhiale e anche l'altra anche quella di questo adesso sto utilizzando questa scatolina che mi è stata data in più in pizzo e quindi li ho rimessi qui questi invece li tengo sinceramente buttati in borsa e oppure nel pannetto così poi sempre dello stesso brand quindi dolce gabbana questi sono una new entry anche se vi devo dire la verità ancora non mi sono abituata anche quando li conservo riesco a sporcare tutti gli occhiali questi qui sono degli occhiali progressivi anche questi nascevano con la lente scura sono marroni e hanno l'interno come la scatola dove erano dove mi sono stati dati insieme alla portaocchiali hanno questo cuore che è meraviglioso sono molto grandi c'è molta molto materiale diciamo la lente non è grandissima forse per quello che non mi sono abituata tantissimo ad utilizzarli avrei dovuto andare da samiraghi a farli vedere per vedere se era il caso di modificarli perché non riesco proprio a vederci bene mi hanno già sostituito la lente una volta però non lo so questa è la confezione degli occhiali è un verde tra il verde acido e l'oro mi piacciono tantissimo adesso vedo altrimenti rimetterò la lente quella diciamo da sole vedrò un attimino secondo me ho sbagliato nella scelta dell'occhiale quelli senz'altro con i quali io mi trovo meglio sono gli occhiali con poca montatura tipo i ray ban poi passiamo ad un occhiale di gucci questo lo stesso mi piace da morire è un occhiale sempre nei toni dell'arancio è grande ma non grandissimo a me piacciono più grandi gli occhiali e le montature più grandi comunque non è piccolo e mi piace veramente tanto e ci vedo bene la scatola di gucci è questa poi avevo fatto vedere comunque la scatola di tiffany poi altro occhiale è quello di swarovski che è questo che vi ho fatto vedere senz'altro in qualche whats in my bag e ha due calamite nelle quali si possono attaccare le mascherine in dotazione ne ha una e col modello argentato in dotazione c'era questa grigia con tutti i brillantini ultimo no penultimo occhiale è un occhiale di chanel questa è la confezione ve l'ho fatto vedere senz'altro in un uozi my bag all'interno c'è l'occhiale nero semplicissimo aggiusto un piccolo logo di di chanel e nell'altro lato quindi montano la lente per presbiopia come quelli che vi ho fatto vedere di swarovski e alle mascherine sempre calamitate una e questa e l'altra e questa timocchiale è il ray van che è il mio preferito ed è quello con la montatura dorata monta la lente per presbiopia quindi questi ritengo fissi però probabilmente quelli progressivi li avrei dovuti scegliere con una montatura simile perché sono veramente degli occhiali che io non sento e non mi dà fastidio la montatura perché è molto piccola e sottile piccola no perché questo è un occhiale molto grande niente questi sono tutti gli occhiali diciamo che uso ovviamente anche se le gradazioni non sono giustissime io continuo sempre a utilizzarli nel senso c'è una piccola differenza magari da un anno all'altro però li uso tutti ovviamente in base a ciò che devo fare durante la giornata per la lettura magari preferisco un occhiale rispetto ad un altro quindi li utilizzo tutti magari posso preferire un occhiale rispetto ad un altro non nego che visto che ho la possibilità li abbino in base a come mi sono vestita può sembrare una cosa futile banale però non è importante quanto si spende per gli occhiali perché uno può acquistare anche un occhiale come quello che vi ho fatto vedere prima di Zara può benissimo acquistare un occhiale del genere e montargli su una lente non è che sta spendendo tanto questi occhiali venivano intorno ai 9 euro oppure l'altro che vi ho fatto vedere con le perle da 20 euro 15-20 euro a me piacerebbe devo dire la verità trasformarmeli proprio in occhiali fissi quindi valuterò un attimino se la cosa è fattibile non vorrei che me li rompessero per sostituire le lenti ecco quando magari ho una borsa dove non ho molto spazio non mi porto senz'altro una scatola così grande quindi a volte utilizzo solo il pannetto oppure ho diverse di queste pochettine che erano di un occhiale assoluto poi me ne avevano dato in omaggio tre una nera, una argentata e una viola le altre due le ho regalate a mia figlia all'interno è proprio molto carino perché rimane tipo in neoprene e il problema è che questi occhiali sono spariti in quanto erano degli occhiali da lettura già diciamo predisposti con una determinata gradazione la mia gradazione, il problema è solo uno che io perdo gli occhiali molte volte al lavoro li appendo e se faccio qualche consegna per quanto riguarda il mio lavoro molte volte li ho persi dentro le buste e nessuno me li ha mai riportati quindi per quanto riguarda quelli da lettura tra uno che mi si è rotto e due che ho perso mancano tre occhiali quindi mi è rimasta solo la confezione di questi io dico una persona si ritrova un occhiale cosa te ne fai? ti piace la montatura? ma dio mio riportala io non riuscirei mai a tenermi un occhiale sapendo che è caduto perché per il tipo di lavoro che faccio se l'ha trovato nella sacca senz'altro se ne è resa conto che era il mio occhiale anche perché si instaura un rapporto con la cliente che va avanti per diversi mesi quindi non lo so non so che dire purtroppo non siamo tutti uguali e niente comunque il video termina qua io spero di avervi come sempre tenuto compagnia spero che ripeto ne sto approfittando a fare se riesco a caricargli dei video giornalieri visto che il tempo a disposizione è tanto senz'altro quando dio vorrai si riprenderà il lavoro riuscirò magari a fare un due video alla settimana perché ripeto il tempo a disposizione non è come questo però comunque per il momento spero di tenervi compagnia di farvi passare questi 10-15 minuti in tranquillità e niente continuiamo a restare a casa che sono certa che prima o poi riusciremo a riuscire ciao a tutte dimenticavo di farvi vedere il mio outfit casalingo ma comunque a meno che non debba pulire comunque dobbiamo cercare di continuare a tenerci a noi e quindi vestirci in maniera comoda infatti è un vestito comodo però dobbiamo comunque non buttarci giù e non cercare di non stare tutto il giorno col pigiama perché in quella maniera noi riusciamo a reagire e rimaniamo rinchiusi in casa due mesi e quando usciamo dimostriamo 10 anni in più quindi cerchiamo di reagire allora quello che io ho oggi è un vestito di H&M nero con questo disegno azzurrino l'ho voluto abbinare alle mie nuove unghie che non so se avrete già visto perché non so quale video monterò prima e sotto ho dei pantacollant di Zara quelli termici non vi faccio vedere sempre le scarpe perché sono scalza niente il video termina qui e niente vi saluto a presto a presto